vai a vedere chi è? vai a vedere chi è arrivato? chi è che è arrivato? Mimu? Abbaia! Abbaia! vai a vedere! vai a vedere! vai a vedere! chi è? chi è? chi è? chi è? vai a vedere! vai a vedere! vai a vedere! dai vai a vedere! come? vai a vedere! chi è? chi è? ma vai a vedere la porta! alla porta devi andare! vai a vedere! dai! chi è? vai a vedere! vai a vedere! Mimui! vai a vedere dai! vai a vedere! vai a vedere! guarda il sabato